Il prossimo 22 marzo Domenica 22 marzo si svolgeranno a Matera le primarie aperte di Matera 2020 Una iniziativa civica che si è già presentata alla città Con i cinque candidati che prenderanno parte a questo confronto E la città sarà chiamata a scegliere quello che dovrà ricoprire il ruolo di candidato sindaco Alle prossime comunali materane del 17 maggio Abbiamo deciso di intraprendere un percorso di presentazione e di dibattito singolo con i vari candidati Proprio perché la comunità materana, a prescindere dal fatto che loro sono già decisamente conosciuti Possano riassumere nell'arco di questi minuti le loro posizioni, le loro idee I loro punti di vista in merito a una città che si avvia ad un momento cruciale Che è quello verso il 2019 e che dall'indomani, nella fine del 2019 Deve cercare di aver creato quanto più possibile uno sviluppo duraturo Ne parliamo e parleremo di tutti questi argomenti in vari spazi Anche con Raffaello De Ruggeri Che conosciamo come presidente della Fondazione Zetema Come socio fondatore del Circolo Culturale La Scaletta E che torno a salutare questa volta da candidato alle primarie di Matera 2020 Ben trovato Grazie a voi, buongiorno a tutti i cittadini che sono in ascolto Ho detto, presidente di Zetema, socio fondatore della Scaletta Esperto insomma di pianificazione culturale, attivissimo in città Una vita dedicata alla cultura, possiamo dire Beh, più che alla cultura, alla militanza civile Cioè, noi costituimo quel circolo, la Scaletta, nell'aprile del 59 Perché eravamo stati provocati da rapporti straordinari Che nel frattempo avevamo avuto Io in particolare ho avuto la fortuna di conoscere Umberto Zanotti Bianco E in un incontro serale a Roma Lui mi chiese perché io avessi questa tristezza di essere un lucano E mi disse, guarda, voi avete un territorio straordinario Tu devi conoscerlo E siccome allora si pensava che io mi fermassi a Roma Mi disse, tu devi capire se questa terra è matrigna o è materna Se è matrigna hai il diritto di abbandonarla e di fermarti a Roma Se è materna hai il dovere di fermarti E lì a Roma, a Palazzo Taverna, in via di Monte Giordano Cominciai a studiare i testi sacri del meridionalismo Dopodiché discesi in Basilicata Mi conobbi tutta la regione E mi risi conto della forza inespressa di questo territorio E nel 1958 con Zanotti Bianco Organizzammo il primo congresso di storiografia lucana E nell'aprile del 59 Mio fratello in particolare, Michele Fondò la circola a scaletta per rispondere a questo quesito Chi siamo? Siamo i figli della miseria, come tutti sostenevano O siamo i figli della storia, come pochissimi ci dicevano E cominciamo a studiare questo territorio E capimmo che eravamo figli della storia E di che storia? Quella storia che non mi ha mai abbandonato E che oggi, proprio per quel discorso di Umberto Zanotti Bianco Mi dice che questa è una terra materna E io ho il dovere ancora di servirla Militanza civile, così l'abbiamo definita Che in questo momento Che non lo scopriamo oggi E non è una novità, è cruciale Per la città Assume un connotato in più Che è quello di voler Impegnarsi In modo ancora più attivo E proattivo per questa città Sposando il progetto delle primarie aperte E fondando insieme ad altre personalità della città Matera 2020 Perché? Proprio perché siamo in un momento epocale E io ho sentito ancora una volta il dovere di scendere in campo Perché io potevo starmi tranquillamente riservato nella mia casa Perché come ho detto sempre, ormai io sono un privilegiato Perché ho visto realizzare i miei sogni La rivitalizzazione dei sassi Il riconoscimento, ciò che era vergogna Il patrimonio mondiale dell'umanità Il momento epocale della città europea della cultura Però io ho sentito il dovere perché adesso era il momento di investire Su tutto questo percorso di vita Perché nel 2020 Noi non solo dobbiamo celebrare il momento finale di questa epocale operazione Che si chiama Matera Capitale Europea della Cultura 2019 Ma secondo me E questo è il mio vizio di avere preveggenza Dobbiamo capire se nel 2020 noi abbiamo Come dice qualcuno Inchiodato allo sviluppo la città E credo che oggi sia possibile inchiodare allo sviluppo e all'occupazione la città Utilizzando la PIL Cioè il brand Cioè questo potere contrattuale che noi abbiamo conquistato a livello internazionale Che non possiamo svilire né nei confronti tattici all'interno dei partiti Né nel confronto etereo del dossier Ma dobbiamo progettare un governo della città per il 2020 capace di dire Noi nel 2020 grazie a questa operazione abbiamo dato autorevolezza alla città Ruolo alla città Sviluppo alla città Occupazione alla città Questo è l'obiettivo di 2020 Che è una missione Attraverso il governo della vittoria Una missione che Mi sembra di capire Non può Forse non è il verbo giusto Potremmo usare anche Non vuole essere Amministrata al meglio Nei recinti partitici Cioè c'è bisogno di una Io ho fatto questa scelta perché ho visto che c'è grande frizione nei recinti dei partiti Alcuni sono posso dire in una situazione di inerzia Altri sono in un focoso e risosso confronto Che non serve alla città Noi adesso dobbiamo coagulare una forza contrattuale con il governo regionale Il governo nazionale e il governo europeo Perché noi nel 2019 non è che rappresenteremo la Basilicata e Matera Noi rappresenteremo l'Europa e l'Italia Abbiamo quindi necessità di confrontarci con i governi nazionali e internazionali Perché questa città deve essere dotata di servizi e di qualità urbana europee Questo è l'obiettivo Se non si capisce questo e si continua a fare un discorso interno dialettico di scacchi Chi sarà il re, chi sarà la regina e chi sarà la fiera Non abbiamo capito nulla Cioè non abbiamo compreso questo valore strategico che la città ha avuto E quindi non riesce a capitalizzare il potere contrattuale che la città ha La politica probabilmente, o meglio, dimostra di non averlo capito fino in fondo La comunità lo ha capito? La comunità è ancora inebriata di questo momento magico della vittoria Ecco perché io ho scritto un tempo fa che dobbiamo governare la vittoria E dobbiamo far comprendere, come abbiamo fatto così attraverso quell'abitanza civile E quel momento di impegno continuo di oltre 60 anni Che il 2019 non può essere un gioco ludico Non può essere un momento di spettacolo e di eventi Deve essere lo strumento strategico per realizzare quei servizi che oggi mancano Quei servizi che debbono fare di Matera una città europea Chiaro, insomma, ovviamente avremo modo di affrontare il tema Matera Nel corso di spazi successivi che avremo a disposizione anche con Raffaello Ruggeri Mi piaceva chiudere questo invece facendo riferimento al valore anche della scelta delle primarie E delle primarie aperte, insomma, il fatto di voler dare a tutti la possibilità di poter dire E esprimere il proprio progetto da ipotetico primo cittadino della città Le cittadine e i cittadini europei sono europee perché rispettano le regole Nel momento in cui questo nostro movimento si è dato la regola delle primarie Non si poteva non abbandonarle e quindi superarle come qualcuno sosteneva E quindi io mi sono, ecco, essendo, volendo diventare cittadino europeo Ho rispettato la regola e questo sarà uno dei grandi problemi che noi avremo per l'Italia Il terzo è, proprio perché è una regola europea e bisogna capire anche l'umore della città C'è questa apertura universale di partecipazione dei cittadini Cioè tutti i cittadini e le cittadine sono chiamati a esprimere una loro attenzione su questa iniziativa democratica Dando il loro voto e dando la loro adesione a uno dei candidati Questo è anche un metodo democratico oltre che una regola europea E io mi sono vestito dei panni del militante semplice per partecipare a questa competizione Che io mi auguro stimoli molto l'attenzione e la partecipazione dei cittadini e delle cittadine E noi continueremo a parlare di questo percorso di Matera 2020 con Raffaello De Ruggeri In un prossimo spazio Al momento lo ringrazio per la partecipazione a questo momento di approfondimento Ci fermiamo qui, ci ritroveremo in seguito E grazie a voi per averci seguito Grazie a tutti